Mi chiamo Aurora De Gasperi, ho 19 anni e vivo a Venezia. Ora sto studiando giurisprudenza, mi piacerebbe fare il magistrato e sono contentissima di essere stata selezionata come una delle 12 Marie, è un grandissimo onore. Faccio danza, hip hop, da quando ho 12 anni, vado in palestra, mi piace uscire con gli amici quando non studio e spero che mi votiate perché sono veneziana e mi piacerebbe tanto fare il volo.